Il 7 ottobre ricorreranno i cento anni dalla nascita di Mimmo Rotella. In previsione di questo importante anniversario, il presidente della regione Mario Liverio ha sposato il progetto di celebrazione del grande artista proposto dalla famiglia Rotella, dalla fondazione omonima fondata dal maestro e dall'associazione Mimmo Rotella Institute. Pertanto la regione è supportata nell'ambito del Fondo Unico Cultura, il calendario di iniziative che si terranno in Calabria e in Italia per commemorare e approfondire la conoscenza sul maggiore artista calabrese contemporaneo scomparso nel 2006, ideatore del décollage e conosciuto in tutto il mondo. In particolare sono due le mostre in programma a partire già dal mese di ottobre. La prima riguarda l'esposizione di opere dell'artista nella Casa della Memoria di Catanzaro, sua città natale. La Casa Museo nel centro storico del capoluogo, in Vico delle Onde 7, dove il maestro iniziò la sua sperimentazione artistica che lui stesso inaugurò nel 2005 dopo il restauro. La mostra si intitola Mimmo Rotella in città e sarà inaugurata il 7 ottobre alle ore 18 per restare aperta dall'8 ottobre al 31 gennaio 2019, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, un'occasione importante dunque per gli studenti calabresi e gli amanti dell'arte contemporanea. L'esposizione catanzarese punta a sottolineare il legame tra l'artista e la sua terra d'origine. Per l'occasione sarà arricchita anche la biblioteca tematica conservata nella Casa della Memoria. Inoltre una speciale segnaletica indicherà per le vie della città i luoghi legati alla figura dell'artista.